Quale articolo della Costituzione italiana parla dell'unità nazionale? L'articolo 5 della nostra Carta Costituzionale, entrata in vigore il 1 gennaio 1948, afferma che la Repubblica una è indivisibile, ma nello stesso tempo promuove le autonomie locali. L'articolo 5 è l'articolo dell'unità nazionale, però nello stesso tempo non viene soffocata l'autonomia delle singole amministrazioni locali. Viene dato libertà allo Stato e promuove la sua unità indivisibile, ma riconosce allo stesso tempo le autonomie locali. L'articolo 5 della Carta Costituzione Ciao, al prossimo video! Vi aspetto! Ciao! 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 Ciao!